Un ambiente confortevole, fuori dal caos della città, elegante ed accogliente? Questo è Persicos, di San Giovanni in Persiceto, Bologna, dove puoi riscoprire il piacere della bellezza e del gusto, grazie al raffinato ristorante che propone il meglio della cucina emiliana e non solo. Il venerdì e sabato lo staff propone menù sempre vari ed appetitosi, in compagnia delle migliori orchestre per ballare e ascoltare ottima musica. Ristorante Persicos, via Cristoforo Colombo 13, San Giovanni in Persiceto, Bologna, Per informazioni e prenotazioni Stefano 333 85 83 073, Davide 333 93 31 525, Ristorante 051 681 1611.